I bandi del Galmeridania sono in pubblicazione e noi andiamo in giro per i comuni a presentare le opportunità contemplate da questi bandi. Oggi abbiamo fatto tappa ad Anzano di Puglia, siamo con l'assessore Antonio Giso che ci ha ospitati in questa piccola comunità e assessore vogliamo sapere quanto possono essere importanti questi bandi per la comunità di Anzano? Per noi possono essere importantissimi perché comunque questi bandi danno la possibilità a dei piccoli imprenditori e anche speriamo a dei giovani che vogliono cogliere l'occasione per un nuovo sviluppo, per produrre lavoro e quindi per promuovere anche i prodotti del territorio. Noi molto volentieri abbiamo accettato l'invito del Gal a ospitarvi, a essere qui. Siamo niente. Molto volentieri vi abbiamo ospitato in modo da proporre un poco a tutta la comunità questi bandi. Non solo l'agricoltura ma anche il piccolo artigianato, il servizio al turismo e la persona. Ecco, il piccolo artigianato è presente ad Anzano. Come può essere importante questo bando per voi? Il piccolo artigianato diciamo che negli ultimi anni purtroppo è andato a finire, quindi sarebbe da stimolo un poco a tutti per poter ritornare anche nelle vecchie tradizioni, nell'artigianato vero e puro dei nostri territori. Speriamo sia veramente da stimolo.